Buongiorno, io stamattina ho visto la live, niente vabbò, alla fine me la merito, avete detto il vostro pensiero, però secondo me ci sono tante cose inesatte, secondo me prima di dire tante cose in live, secondo me era meglio parlarne pure prima in privato, anche perché io ci ho provato un paio di volte, però non ci sono riuscito, vabbò, alla fine va bene così, alla fine me lo merito. E vorrei tanto capire cosa in esatto, cosa che fosse, lui mi chiamava pure a me, picciò mi è comprata vicino, fammi capire, quale è la cosa inesatta che hai giudito, perché veramente sei stato proprio vergognoso, dire dal vivo io ti stimo e poi spallo tutte quelle cose, Gianlu, tu sei stata a merda e tutte merda che hai già conosciuto tramite YouTube. Alla pari di Monica, alla pari se non peggio, che tu in discussione ti vai proprio a cercare, però io ti ripeto, se tu hai scelato a foto a gallo con il cocco strunzato, ovvero, ma non innamorato io ti dai tuoi car legali, che secondo me è il peggio gastico. E ho avvertuto la famiglia tua quanto sei aquello. E quanto tu sei anche aquello. A te te lo posso dire in napoletano, che me capisco. E ho avvertuto la famiglia tua quanto sei aquello. e avverta la famiglia di quanto si chiacchino.